Una domanda per il dottor Casadei. Intanto contestualizzo la provenienza della domanda che viene col cappello dell'associazione No Profit. Era molto interessante il discorso del creare un fondo all'interno di una fondazione in cui la fondazione si fa garante nei confronti del donatore sulla finalizzazione data dal donatore rispetto a quella donazione. Però io ho perso un passaggio probabilmente per colpa mia perché nel mondo No Profit spesso capita, prendiamo l'esempio che ha fatto lei rispetto al restauro della parrocchia, si fa una campagna naturalmente, tolgo da questa domanda le aziende, mi concentro sui privati, si fa una campagna sul territorio, anzi diciamo un passaparola per andare sulla filosofia che illustrava prima l'autore Saraco, sul territorio poi cominciano a arrivare le donazioni che naturalmente essendo legate a quella campagna sono già di per sé finalizzate. La fondazione raccoglie il fondo ma sempre capita quando si fanno delle campagne di organizzazione No Profit che c'è un gap tra l'esigenza economica e il risultato finale. Spesso è negativo ma capita parecchie volte che sia anche in positivo. In quel momento in cui la fondazione ridestina l'introito totale all'organizzazione No Profit, se supera il budget per quel singolo progetto, cioè con l'ammontare in più come ci si comporta, che è uno dei problemi che hanno anche le organizzazioni No Profit molto trasparenti con i propri donatori. Allora, tecnicamente quello che avviene è questo. Se le donazioni superano il budget del progetto, ci sono diverse strade. Una strada può essere quella di un'integrazione del progetto per cui sempre, per cui si aumenta di fatto il valore del progetto e la cosa chiaramente è una delle cose più semplici. Un'altra ipotesi è tendenzialmente si pensa che quella donazione sia poi destinata, sia pensata per le attività di quell'ente. Allora, normalmente cosa si fa? Se ci sono singole donazioni che superano un certo importo, 500-1000 euro, e si ha i dati del donatore, perché non necessariamente si hanno i dati del donatore, e si hanno i dati del donatore, lo si contatta, gli si dice guarda la tua cosa non serve più per quel progetto, cosa ne vuoi fare? Lo vuoi tenere per altre attività sempre di quell'organizzazione? lo vuoi destinare a qualcos'altro? Lo vuoi tenere lì parcheggiato prima o quando non arriva una roba? Se chiaramente non si ha questa informazione, le donazioni sono tante piccole, diventa ingestibile la roba oggettivamente, quindi si crea di fatto un fondo per un altro progetto sempre di quell'ente. Questo non sarà perfetto, però ci è sembrato il comportamento più logico che si possa fare. Chiaramente si comunica tutto sul sito, si comunica tutto con i vari strumenti che si hanno, però l'idea è questa, per cui alla fine c'è la massima trasparenza nei limiti del ragionevole, perché chiaramente non posso andare a cercare uno che ha dato un euro e ci diventerebbe impossibile da gestire.